Il popolo ce l'ha con i politici, il popolo ce l'ha con gli impiegati comunali, il popolo ce l'ha con gli impiegati della regione, tutti dicono Ah stia, i amassano, se poi bisogna diminuirli, tra questi c'è anche una mia parente che dice che insomma bisogna fare, allora io ho sempre detto una cosa, attenzione ragazzi, attenzione, i clienti alle volte bisogna pagarseli. Allora tutto questo genere di burocrazia è stata creata nel dopoguerra, voi giovani forse non lo ricordate, ma la democrazia cristiana alleata col partito comunista in maniera indiretta ha creato posti di lavoro perché c'era una disoccupazione diffusa, perché c'era una situazione drammatica, si veniva da sta guerra, fame, tutto quello che c'era e quindi si sono creati i posti di lavoro. C'è un punto che non funziona, riposo, che la burocrazia ha creato tutta una serie di inghippi, di legami, di cose per cui la popolazione si innervosisce. Allora hanno fatto tutte le modificazioni che potevano fare, però vi voglio dare due esempi che sono successi al sottoscritto. 1. Rinnovo della patente. Allora quando si rinnova la patente sapete cosa bisogna fare? L'avrete fatto tanti, ma lo riassumo. Bisogna andare dal medico di base, che è il tuo medico. Il medico di base ti fa la certificazione che tu sei sano, che sei a posto, eccetera, 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 eccetera. Te la firma paghi, perché questa è una cosa che si paga. Dopodiché lo Stato non è contento perché dice La dichiarazione del medico di base potrebbe essere anche non precisa. Allora deve essere legalizzata dal medico legale della struttura sanitaria del distretto sanitario del quale tu fai parte. Allora devi andare alla posta e devi pagare un bollettino di 9 euro per il bollo, un bollo speciale. Naturalmente quando paghi il 9 devi pagare 1,70 euro della bollettina postale. Poi ne devi pagare 19 perché quello è per un istituto particolare che pensa alle patenti dell'accidente che ce lo portano. E altre 19, più 1,70 naturalmente della posta. Poi devi andare a prenotare, devi telefonare per prenotare la visita naturalmente all'azienda sanitaria dal medico che ti deve confermare che quello che ha detto il medico di base è giusto perché il medico di base è pur pagato dalla provincia, è quello che ti fa le malattie, è un medico convenzionato, è un medico di cui noi ci dovremmo fidare ma non ci si fida. Allora bisogna andare da questo signore. E quando vai prima di entrare lei deve pagare 35 euro. Allora altri 35 euro da una signorina vai e paghi 35 euro. Poi ti visitano, la patente viene rinnovata e l'unica cosa meravigliosa è che tu due giorni dopo a casa ricevi la nuova patente. Ma non la ricevi gratis. Altre 6,58 euro perché la spesa portale è a tuo carico. Mi va bene. Però immaginate una persona che ha una certa età, che ha una certa anche difficoltà, che deve fare tutta sta roba. Ma non si potrebbe dire rinnovo della patente euro 100 e che ciurla finì la storia? Non sarebbe molto più veloce? Sarebbe molto più veloce. Siete capaci voi onorevoli Panizza, Fravesi e tutti gli altri di fare un'interrogazione in Parlamento e di dire a Renzi che sta modificando alla Boschi che sta roba è chi l'è ora a definirla perché la gente ne ha? Eccetera, eccetera, eccetera. Io mi piacerebbe che questa cosa fosse sentita da questi onorevoli che Gesù ha, non so, a fare che cosa a Roma. Ha che l'ottobre per esempio. Potrebbe essere una bellissima interrogazione per l'ottobre. Però la cosa non è finita. perché giorni fa mi arrivano dei rimborsi delle tasse, a parte che quando ho visto il rimborso delle tasse mi è preso un colpo poplettico, perché di questo non è possibile. Sì, dai, ho preso dei soldi di ritorno. Ma come li ho presi di ritorno? Allora ho preso di ritorno con cinque lettere, cinque, tutte dello stesso tenore, ma l'importo era diverso. 14 euro del 2008, no, 2007, 38 del 2008, 633 del 2009, 78 del 2010 e 24 del 2011. Allora mi sono posto la domanda. Ma questa gente qua è preposta per andare a vedere l'evasione fiscale o per rompersi le scatole. Apprezzo, per l'amor di Dio. Sono molto contento che abbiano guardato e che mi abbiano restituito. Ma io avrei fatto una lettera unica. Non cinque lettere. Cinque lettere nelle quali c'è scritto, c'è scritto, c'è scritto, 2.000 euro. Io avrei fatto una lettera. Dalla revisione del 2008, sono state rimborsate, 14 euro, in un'unica lettera, con un unico mandato. No, cinque mandati. Ho dovuto fare cinque mandati, scrivere su ogni mandato il mio documento, scrivere sul mandato il mio codice fiscale, perché non lo so io amico, il codice fiscale, l'ufficio d'entrata, lo conosco il mio codice fiscale. Alla posta tutta sta roba qua. Il tutto, il tutto ha comportato per il sottoscritto in maniera favorevole, perché sapeva soldi di ritorno. Ma quello che ho pensato io è, l'ufficio postale l'abbiamo caricato di cinque operazioni, giusto? Le lettere che hanno scritto a Trento sono cinque. Allora io dico, perché non si può arrivare a una semplificazione? Questo che il cittadino chiede. Il cittadino ha bisogno di cose semplici, anche perché sul discorso che abbiamo fatto, mi pare l'altra volta, quando abbiamo parlato della sanità, il cittadino oggi è abituato a internet, non va più a comprare il francobollo, la lettera, la manda, aspetta la risposta. Scrive un'email e immediatamente ha la risposta. È un mondo velocizzato, i giovani fanno le cose velocizzate. Quindi la cosa che non riesco a capire è perché non si riesce a girare la storia. Ma la storia è molto semplice, perché hanno paura di essere licenziati, hanno paura di tutta la burocrazia che vengano diminuiti i posti di lavoro. Pensate e chiudo che il comune di Arco, quando il sottoscritto è venuto, aveva cinque dipendenti, dico cinque, segretario comunale, amministrativo, geometra, mi ricordo con il geometra Negri, la Elda Chiarani che era coso e la Bertamini che coso. Cinque gli erano e andavano avanti in comune. È vero che non c'erano tutte le complicazioni, per l'amore di me non voglio dire, ma adesso è 145, mi pare? 145. Lavoravano anche il sabato, adesso a mezzogiorno, trac, finito. Non funziona. Non funziona. Allora una cosa mi piacerebbe poter dire alle volte a un'assemblea di dipendenti pubblici. Avete il posto a tempo indeterminato o a tempo determinato? a tempo indeterminato, benissimo. Ma con una differenza, che chi è nel privato può darsi che l'azienda fallisca, chiuda e quel tempo indeterminato va su per il cammino. Ma chi è dipendente dello Stato non chiude, hanno una garanzia e soprattutto non hanno il padrone. Io, se anche adesso sono un imprenditore privato, ho lavorato due anni sotto padrone, chiaro? E mi rendo conto che cosa vuol dire avere un padrone. Bravo, buono, tutto quello che volete voi altri, ma se ha le paturnie, ti te tocca tasse, le paturnie non le gà. E allora non è una fortuna? Non è una fortuna avere il tempo indeterminato, certo, e non avere il padrone. Io credo che se questa gente facesse veramente un'analisi di coscienza, dovrebbe lavorare il doppio e cercare di eliminare tutte queste balzelli, tutte queste cose che fanno innervosire le persone. A una prossima volta.